Partiamo dall'assunto che la risposta a questa domanda non qualifica la persona alla quale viene posta in alcun modo, né come essere umano, né come donna, né come persona competente o capace di disquisire di qualsivoglia argomento. Ma la questione è anche un'altra. Nel 2024 la buona fede è necessario metterla da parte, poiché noi dobbiamo fare qualunque cosa in nostro potere per evitare una sofferenza a qualcuno alla quale possiamo non causarla. Poiché facendo una domanda come questa non necessariamente si sta chiedendo, come nel mio caso, se sia stata una scelta quella di non avere dei figli. Con questa domanda noi stiamo stuzzicando pensieri e dolori in qualcuno pubblicamente dal quale non si potrà più difendere. Stiamo infatti chiedendo se ha subito degli abusi e per questo non può avere dei figli, se ha avuto dei figli ma li ha persi, se ha tentato di avere dei figli e ha subito degli aborti uno dopo l'altro, se avrebbe voluto tenerli ma non ha potuto per qualsiasi motivo, se soffre di questa scelta del suo passato, se è stata lasciata perché non poteva avere dei figli, se la sua famiglia l'ha rinnegata perché non poteva o non voleva avere dei figli. Nel 2024 siamo in grado di spostare la nostra curiosità onde evitare di fare del male a qualcun altro in buona fede, tutte le volte che possiamo.